Job Accounting Utilizzando le funzioni integrate della macchina e alcune applicazioni proprietarie di gruppo Tognetto, è possibile far accedere gli utenti o dei gruppi di lavoro in modo univoco e a ogni utenza associare delle proprietà della macchina, come l'inibizione della stampa a colori, un limite alle copie o stampe mensili e tutto ciò di cui il cliente finale ha bisogno per il controllo automatizzato delle stampanti nella propria struttura.